Arezzo doveva tornare al successo e lo ha fatto in trasferta dopo due sconfitte. L'Amen, scuola basket Arezzo, ha espugnato il campo del Don Bosco Livorno e finisce per 83 a 67. Primo quarto equilibrato con L'Amen che mette la testa avanti con i canestri di Vesilinovic e Rossi. Nel secondo quarto un parziale di 7 a 0 a favore del Livorno riporta la partita in parità, prima che la seconda tripla di Pelucchini e ancora di Rossi lancino gli Amaranto. Il finale di quarto è tutto di marca retina con i ragazzi di coach evangelisti che operano il break decisivo andando a riposo sul 49 a 30. Il terzo quarto si apre con due canestri dalla lunga distanza per la SBA, prima Rossi poi Fornara, permettono all'Amen di amministrare un vantaggio che nonostante qualche errore dalla lunetta rimane sempre su un margine di sicurezza. Negli ultimi dieci minuti coach evangelisti concede spazio anche ai giovani che si guadagnano minuti di esperienza per il proseguimento del campionato. La partita finisce 83 a 67. Sabato al Palasport Estra arriva il Cecina, ferita dalla sconfitta casalinga contro l'altra capolista Prato.